Ciao, sì, stai guardando la tv, guardi sempre la tv, eh sì, tra un po' vado in diretta, ti faccio i saluti, ti faccio i saluti, eh sì, devo fare un gesto, mi tocco i baffi, eh, quando mi tocco i baffi è per te, che ti piacciono tanto, sì, me li tocco per te, ciao, ok, ciao, ciao cavallone, ciao, 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 ciao. Buonasera e benvenuti a Tappeto Rosso, programma di approfondimento dei personaggi famosi delle Marche. Sigla! Ospite di questa sera a Tappeto Rosso, Dustin Hoffman. Buonasera, Mr. Hoffman. Ciao a tutti, ciao. Dustin Hoffman, eh, sta mangiando? Eh, un pochino, faccio merendina. Ah, merendina. Senta, Dustin Hoffman, ma che cosa l'ha colpita di più delle Marche? Di più? Sì. Bonnelli, certe botte proprio con Bonnelli. Ma no, non in quel senso, insomma, del paese. No, capito, capito, Marche bellissime. Eh beh, sì. C'è tutto, montagna, mare, Marche misteriose, feste, gente, proprio anche i dialetti. I dialetti. Tanti dialetti differenti. Sì, 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 è vero, è vero. Un'unica ragione, ma tante parlate. Eh, ma lei riconosce i nostri dialetti? Certo, certo. Sì. Ci guardi tutti. Cioè, le posso fare anche un piccolo test? Certo, certo. Corbu, sto qui apposta per voi. Beh, allora, che ne so, iniziamo da Pesaro Urbino. Eh, Pesaro Urbino un po' così, un po' tata, un po' di dizio, un po'. Ah, 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 ah. Come Valentino Rossi. E Ancona? Ancona, cociai dentro la testa l'arenella, cociai i mocioli, i mocioli, i mocioli, i mocioli, i mocioli che proprio sono anconetani. E Macerata? Macerata, gli maniato lo pollo, gli dato l'esame, rustafuria, pistacoppi. Ah no, rustafuria no, mi sono sbagliato, è ascoli. È ascoli, l'hai bevuto pannelli. Sì, ho bevuto tantissimo pannelli. Mascoli è bellissimo. Eh, com'è? Sting e stange. Sting e stange. Rustafuria, cavallo del West. Li frichi, li frichi. E poi c'è, c'è anche fermo. Fermo, sì. Ti sei ciuturato io per lui. Ti sei ciuturato io per lui. Eh, non la sentivo da anni, è bellissimo. Sì, è bellissimo. E beh, insomma, le piacciono molto le marche. Sì, è tantissimo proprio. Certo. Sì, allora, i suoi prossimi appuntamenti da Sinofman? Eh, prossimi appuntamenti, adesso fra dieci minuti, ho praticamente un corso di canto insieme a Gnello e Maria De Verdozzi. Sì. Mie due amici, perché facciamo un concorso canauro qui nella Marche e io voglio cantare una canzone di D.D. Martin. Everybody loves somebody sometimes. Eh, vabbè. Allora, con il suo ciabuscolo in mano e la bottiglia di Varnelli, salutiamo Dustin Hoffman. Ci vediamo alla prossima puntata di Tappeto Rosso. Arrivederci. Varnelli, c'è un scolo Varnelli. Tan 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 tan. da 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 da